C'è chi prevede un inverno gelido e chi invece prospetta temperature più miti. In ogni caso, per fronteggiare l'arrivo dei primi freddi, occorre una manutenzione dell'impianto termico delle abitazioni. In diverse province italiane, il 15 ottobre, sono stati riaccesi i riscaldamenti. Nelle altre aree del paese, in base al calendario, avverrà entro fine mese. Ma vediamo alcuni suggerimenti pratici per ottimizzare il comfort casalingo. Spurgare i termosifoni e il radiatore e liberarli da possibili ostacoli, i mobiletti ad incasso o tende che impediscono all'area di circolare liberamente. Eliminare la polvere dai termosifoni che si è accumulata nei mesi estivi per evitare che i muri si anneriscano. Per avere il giusto livello di umidità dell'aria è necessario riempire d'acqua idee umidificatori e controllarne il livello. Cambiare l'aria in una stanza è giusto, ma non significa lasciare aperte le finestre per ore, perché si raffredda l'ambiente con un aumento dei consumi. Chi ha un impianto autonomo deve utilizzare al meglio il termostato, temperature sui 20 gradi e deve accenderlo in base ai propri orari di vita quotidiana. Per chi desidera risparmiare e non utilizza tutte le stanze di casa, è possibile installare le valvole termostatiche per riscaldare solo gli ambienti più utilizzati. Non dimenticarsi mai di regolare dalla caldaia la temperatura dell'acqua dell'impianto. Quella calda non deve essere superiore ai 45 gradi. Infine, bisogna effettuare i controlli previsti dal produttore della caldaia, perché la corretta manutenzione aiuta a risparmiare. Una caldaia non efficiente può far crescere il consumo del gas anche del 30%. Grazie. Grazie. Grazie.